ok abbiamo preso il genotino e poi ce ne andiamo eh ok senza far cadere se no viene un casino da comoda bestia rimane bloccato ok siamo quasi preso eh, cioè siamo quasi arrivati eh sono sicuro di sì bene ora oh grande yeah energia di nuova 4 di seccatrice di potesatana grande grazie satana oh satana vero male che culetto eh ragazzo che cazzotto abbiamo preso un'altra energia ah così non mi danni nessuna ah ah nessuno non mi potrà fermarmi ah 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 ok prendiamo basse scherzi dobbiamo continuare questo gioco eeeh così andiamo andiamo avanti ah finalmente abbiamo preso finalmente ecco ci siamo riusciti abbiamo preso ah si ora mi ricordo la posizione col succo per poter formare avevo già dimenticato non ci avevo pensato scusate che mi sento confuso ah eh errone ho trovato un podia le pelle di rat crook e la posizione col succo fantasia verri ora subito mettere questo che c'era la posizione oh no tra poco inizia la quale gine delle punte e le case ti ricordi questo nede vero? no vabbè no 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 non posso seguire un'altra volta cosa devo fare da questa parte? vabbè non importa vabbè ci vediamo la prossima volta eh ok